Per avere una grandissima passione per quello che si fa, per quello che si vuole provare a fare e una determinazione direi unica fuori dal comune. Questi secondo me sono due ingredienti necessari per chi vuole mettersi in proprio anche perché il percorso, anche se poi arriva diciamo a un risultato estremamente positivo come è stato nel mio caso con un exit, gli up and down sono costanti e sono direi quotidiani. Quindi passione e determinazione sono assolutamente fondamentali e poi cercare di affiancarsi nel progetto di persone molto più competenti sugli aspetti specifici di te.